Buona mannana! Hola muchachii! Oggi da ora è a voi nostro carissimo socio che è un grandissimo figo della madonna POLIFEMO! POLIFEMO! I mortacci tuoi no questo polifemo Cap! Prima di tutto saluta qualcuno a tutti quelli che ascoltano il canale Grazie, siamo tornati in macchina e sta pure il socio che ti mostra sempre solo sex agile e sta pure il mio taxi driver POLIFEMO! Un figo della madonna Ehh, cavo di qualcosa per scom...data serata Caricola non commenta e in silenzio stampa come conte Allora, prima di iniziare vorrei dire e vorrei dare tantissimi tantissimi auguri al nostro caro socio Polifemo che oggi compie 30 anni Polifemo, fai attenzione che stiamo facendo orecchi quindi preparati un male alla mattina vabbè, fatti gli scherzi Sì Per i nuovi ribatti vorrei aggiungere che il nostro caro socio Anzi, prima di dire perché lo chiamo socio Lo chiamo socio perché il nostro socio abbiamo fatto molte collaborazioni insieme soprattutto all'inizio Anzi, io ti vorrei ringraziare che grazie al tuo aiuto e alla tua collaborazione abbiamo fatto insieme i migliori video del canale e detto questo ti auguro ti auguro di passare la giornata nei migliori dei modi e di festeggiarvi nei migliori dei modi e a tutti gli altri spero di non avervi annoiato e ci vediamo alla prossima mucciaci Hola!